Ciao a tutti ragazzi, siamo con un altro italiano oggi Lo sto smaccendo, ho la gomma attaccata al palato E niente, siamo qui oggi in un posto un po' diverso che si chiama Flyzone ragazzi Anzi scusate, Skyzone Questo è il simbolo e in poche parole non vi dico niente, guardate solo e basta, fatevi un'idea Ehi C'è anche Sara Guardate i calzini, guardate per favore I calzini epici Sono una cosa più grande Sei Sanfini in Italia Ho viato Ho fatto uno stupido Quitella ripatato Niente, adesso stiamo entrando ragazzi, ancora non vi dico che cosa è ma si può incominciare a vedere qualcosa Todo mundo viato Per questi Ci vediamo la lola Sì, siamo qui Stanchi? Morti, finiti Distrutti Strapiti Gli altri ancora saltano No? 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 Ma chi è Claudia? Claudia qualcosa? No Claudia Claudia qualcosa, no Claudia Ma che cosa? Ma che cazzo? Ma ha cominciato sto anche la su Snapchat Ma che cazzo? Perfetti 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 Oh È italiana She can say ciao I can't say more than that Cazzo Questo che sai che la devo tagliare Nooo Perfetti